La differenza è ovvia, ma a quanto pare, viste le risposte che ricevo tutti i giorni, forse non è così. Ovviamente dico 100 euro per indicare una cifra molto più alta di un euro. Potrebbe essere anche 30, 50, 80, 100, 150, 200, 300, 500, 1000, 2000. Se vendo una base a un euro è perché avrò almeno 100 richieste di quella stessa base, quindi avrò guadagnato 100 euro. Se invece si tratta di assoluta rarità, infatti guarda caso quel brano non l'ha mai prodotto nessuno prima, in quel caso io dovrò lavorare esclusivamente per quella singola persona, quindi gli farò pagare le ore stimate all'incirca per quel dato lavoro. E non solo, se ci saranno o meno musicisti dal vivo, se ci saranno o meno partiture a disposizione da cui partire, l'urgenza di quel dato lavoro, il grado di complessità. Ma bisogna anche considerare che la qualità sia slegata dal fatto che stiamo parlando di una base pronta o su misura, perché dipende come è stata fatta la base pronta e come è stata fatta la base su misura. Quindi prima di dire Ladro! Io le basi le compro a 89 centesimi! Perché mi chiedi X? Bisogna analizzare tantissimi fattori e io vi aiuterò volentieri.